Nel primo pomeriggio è arrivato un nuovo rinvio per il dossier Grecia dall'Eurogruppo e l'Eurosummit, in cui si è discusso delle misure proposte da Tsipras per scongiurare il default. L'Eurogruppo si riunirà nuovamente in settimana, ma vi è la reale possibilità che la Grecia possa uscire dall'Europa? Secondo me è molto probabile che la Grecia rimanga nell'area Euro, perché penso che sia impensabile una fuoriuscita del paese dall'area Euro, per il semplice motivo che da una parte la popolazione sta protestando proprio anche in questi giorni per far sì che rimanga o per fare anche pressione sul governo greco affinché rimanga nella comunità europea. Se non si dovesse trovare una soluzione e quindi la Grecia non dovesse rimanere all'interno dell'Unione Europea, che tipo di conseguenze potrebbe avere? Se la Grecia dovesse uscire dalla zona Euro, per tutti quelli che sono in Grecia, e guadagnano in Euro greche, da domani guadagnerebbero in dracme greche, perderebbero un potenziale d'acquisto immenso, perché si parla di una svalutazione del 50% circa. Vuol dire che per chi domani greco vuole andare all'estero, deve pagare il doppio di quello che paga oggi e dovrebbe avere anche la disponibilità economica per farlo, per venire l'incontro. In attesa di sapere se in settimana si arriverà o meno ad un accordo, siamo andati anche in un'agenzia viaggi per capire se quanto sta avvenendo in Grecia ha portato i turisti a scegliere altre mete. Ma purtroppo non si può sapere quello che succede nel futuro, però almeno per quanto riguarda i viaggi, io non credo che chiudano gli alberghi oppure chiudano gli aeroporti. Pertanto, almeno per adesso, non abbiamo restrizioni oppure non abbiamo informazioni in merito come si può evolvere questa situazione. Comunque i pagamenti con carta di credito negli alberghi e nei fornitori dei servizi funzionano regolarmente. Sicuramente, senza dubbio può essere che qualche bancomat sia vuoto, perché proprio i greci, cioè la popolazione locale, almeno si sente nelle media, che prelevano il più possibile e pertanto può esserci qualche vuoto nel bancomat. Per lo sblocco dell'ultima tranche di aiuti da oltre 7 miliardi di euro bisognerà attendere fino a giovedì, quando è in calendario un summit tra i leader dell'Unione Europea.